Possiamo parlare senz'altro di un consolidamento, ormai siamo al terzo anno in cui possiamo pronunciare questa parola, consolidamento di quello che è l'andamento positivo dei principali indicatori economici. La Calabria è fuori dal guado della recessione ma non ha ancora recuperato i livelli economici pre-crisi e l'estrema sintesi dell'aggiornamento congiunturale realizzato dalla filiale calabrese di Banca Italia. Un report statistico che esamina i principali indicatori per istituire una fotografia nitida delle condizioni economiche regionali. Quali sono gli indicatori più importanti? Sicuramente il miglioramento per il secondo anno consecutivo della redditività delle imprese che è vero e trainato da alcuni settori guida, però è comunque abbastanza diffuso. Il commercio e il turismo sono i settori che trainano la pur lenta ripresa economica calabrese e in particolare il settore rigettivo che ha registrato un aumento delle presenze del 2,9%. Resta ancora al palo il settore delle costruzioni. Mentre volano gli indici di internazionalizzazione, le aziende che esportano all'estero hanno fatto registrare un aumento del 38%. Il dato sull'occupazione è positivo e addirittura lievemente superiore a quello nazionale. Cresce il numero degli occupati passando dal 40,1% del 2017 al 40,8% attuale, ma si tratta per lo più di occupazione radicata nel settore autonomo e quando è dipendente per lo più precario. Resta invece stabile il tasso di disoccupazione determinato dall'aumento delle persone in cerca di un impiego. Non dobbiamo dimenticarci che la Calabria soffre ancora e questo è dovuto alla presenza di divari non ancora colmati, divari pesanti, divari che caratterizzano soprattutto la situazione delle famiglie, con dei livelli di disoccupazione ancora molto pesanti, livelli di povertà assoluta delle famiglie molto diffusi con indicatori nell'ambito di una nazione che ha comunque degli indicatori elevati, ancora più elevati. Luana Costa per la C News 24